Guglielmo sembra stanco, barcolla, cammina senza le scarpe da ginnastica che preferisce tenere in mano indossando solo dei calzini ed un asciugamano in spalla. Ma è vivo ed il video che lo ritrae sul lungomare di Amalfi è per la mamma Rita Francese dopo ore di angoscia e di paura per la sua scomparsa avvenuta dall'abitazione di famiglia in piazza San Francesco a Salerno lo scorso 3 settembre, la prima buona notizia. Oggi Rita è un fiume in piena tra la gioia di sapere che Guglielmo è vivo e l'angoscia di chi ancora però non può abbracciarlo né ha certezza sul suo allontanamento. Ma la consapevolezza che diffondere le notizie sui social sta finalmente cominciando a dare delle tracce per cercare di individuare il percorso di Guglielmo che si muove senza documenti e senza telefonino spinge mamma Rita a parlare e a continuare a chiedere aiuto. La ricerca che ha visto al lavoro le forze dell'ordine oggi alle 12 e anche una riunione in prefettura per fare il punto della situazione dopo che ieri un elicottero ha sorvolato la costiera amalfitana ha visto al lavoro ed impegnati anche i tantissimi amici che oggi la mamma di Guglielmo Belmonte ha voluto ringraziare. La polizia è riuscita a risalire quale telecamera in quale orario guardare è stato proprio identificato e quindi un grande lavoro delle forze dell'ordine che veramente ci stanno dando coraggio e questo per noi cioè diciamo io tanto riesco a parlare perché abbiamo avuto questa notizia perché noi veramente temevamo il peggio invece è ancora vivo e quindi dobbiamo capire che cosa gli è successo perché comunque un ragazzo che ha diciamo aveva la possibilità di andare in una casa a Roma che era stata affittata quindi non aveva nessun bisogno di di fuggire poteva andarsene insomma quindi deve essere successo qualcosa non sappiamo per cui è importante cercarlo e trovarlo e rassicurarlo. Il problema ha lasciato qui il telefonino voi avete provato a vedere se c'erano degli indizi? No nulla nulla tutto tutto senza cioè la polizia ha esaminato tutto il cellulare il computer hanno detto che era un bravo ragazzo che da questo si evince insomma quello che che io ho trovato incredibile è stata la partecipazione degli amici che sono stati meravigliosi hanno tappezzato tutta la città di volantini non solo la città ma sono arrivati fino a sorrento fino in cilento dappertutto quando si è saputo che era stato visto a cetara sono andati a esplorare tutti i sentieri veramente c'è stata una mobilitazione e le informazioni le abbiamo avute grazie ai social che sono sempre più importanti quindi molte non attendibili ovviamente però insomma ce l'abbiamo avuto questa questa informazione è stata grazie ai social tanti amici signora guglielmo con qualcuno magari aveva avuto momento di sfogo aveva potuto far capire ecco di essere in qualche maniera sotto pressione tanto da volersi allontanare nessuno le ha magari detto qualcosa su questo fronte hanno detto lui era molto riservato per cui non si è mai non si apriva hanno detto di averlo visto leggermente più nervoso ma non più di tanto però comunque dalle telecamere che le hanno inquadrato camminava spedito quindi questo diciamo la prima sera che era a cetara non aveva l'aria di uno cioè che avesse che camminasse sotto un peso però quindi questo preoccupa che che insomma possa essergli successo qualcosa possa aver perso la memoria possa avere qualche trauma non sicuramente diciamo non aveva bisogno di scapparsene restano intanto mille gli interrogativi della famiglia belmonte sulle cause dell'allontanamento di guglielmo dalla casa la famiglia raccoglie qualsiasi notizia persino le rilevazioni di una sensitiva che aveva riferito di aver visto il ragazzo ferito ad un ginocchio su una spiaggia ma guglielmo sta bene e potrebbe oggi anche essersi diretto verso roma signora lei stamattina ha scritto anche guglielmo potrebbe essere andato verso roma perché in realtà abbiamo avuto una segnalazione ma non ne siamo anche perché lui una segnalazione che lo vedeva su un fix bus io so che lui non ha né green pass né documenti quindi questo non lo so cioè se poteva salire su fix bus in queste condizioni questo momento ogni segnalazione bene da tenere in considerazione che diciamo c'è questo aspetto che potrebbe recarsi a roma perché lui ha degli amici la anche se noi li abbiamo chiamati tutti nessuno ne sa niente abbiamo chiamato pure il proprietario della casa perché la casa è stata adesso affittata lui non ha le chiavi e non l'ha contattato anche perché poi senza telefono chi può contattare se non c'è i numeri quindi questo la vedo abbastanza per cui è una segnalazione non sappiamo nelle poiché diciamo i suoi punti di riferimento sono salerno e roma se io dovessi andare da qualche parte cioè penso io però quando può anche andare in un posto completamente sconosciuto quindi